Mi dici cosa fai con i 500 video che tieni qui dentro? Mi alleno per fare l'influencer. Per divertimento, intendi? No, di lavoro. Ragazzi, cosa devo fare per farmi stare un'ora senza telefono? Vi devo dare le metadone? Dio, sei un accorso! Ma la sua età è normale fare il contrario di quello che dicono i genitori? La ragazzina mi ha attaccato in un video. Di influencer come quella di Eleonora, sono fuffa mischiata con niente, sono il prodotto peggiore di un'epoca che sta andando alla deriva. Ma che andassero a lavorare! Verba bolant, ma social moment. Facciamo vedere a questo padre trombone che siamo molto peggio di quello che crede. Viva gli influencer! Praticamente sei un influencer senza nemmeno avere il profilo. Anti-influencer. Ti faccio da social media manager. Secondo me io ti insieme. Spacchiamo. Vuole farla con noi? Io sono d'accordo col professore. Forse il problema non è il telefono, perché stai diventando grande. O forse sei tu che mi tratti ancora come una bambina. Gesù il padre trombone! Cosa fa signora? E monisco la protesta, no?